Il corpo senza vita di Sabine, la nonna del piccolo Noah, è stato ritrovato in località Iaccia, a 7 chilometri da Mulino delle Fontanacce, nel comune di Montecatini-Val di Cecina. A trovarlo sarebbe stato il proprietario di un terreno, una zona impervia, invasa dall'acqua, che una volta ritirata ha mostrato il cadavere della donna, che lunedì pomeriggio teneva in braccio il suo nipotino con l'intenzione di mettersi al riparo dall'ondata di piana del torrente Sterza, che poi li ha travolti. L'identificazione è in atto, ma i soccorritori non hanno dubbi. Si tratta della turista tedesca, arrivata con il marito e i genitori del bambino, per trascorrere un periodo di vacanza nel Pisano, in mezzo al Verde. Poi, la tragedia. Sono tanti gli ettari che dovranno essere ripuliti, oltre ad aver seminato morte, l'esondazione ha spazzato via gli animali nelle stalle, intere attività e coltivazioni. Il sindaco Francesco Auriemma fa un appello. Non ci abbandonate, lo dice alla Regione e al Governo. Sul sito del Comune è attiva una raccolta fondi. Chiunque può donare per aiutare chi ha perso molto a causa della furia delle acque ed è attivo anche il portale per la conta dei danni. Intanto le ricerche proseguono incessanti H24, ancora una volta per cercare un altro corpo, quello del piccolo Noah, di soli 5 mesi.